bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia che giornata incredibile sarà quella di oggi per quanto riguarda i premi che ci darà epic games parlo ovviamente della skin di deadpool ma non voglio fermarmi lì vi farò vedere oggi anche degli spezzoni incredibili per quello che riguarda la storyline di midas come quelli che vi ho fatto vedere nel video di ieri prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano utilizzando il mio codice creator nello shop xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news insomma ragazzi volevo anche ovviamente farvi vedere dei leaks molto molto interessanti che non possono che farci desiderare di raggiungere questo termine season però attenzione perché sembrerebbe che non sia il 29 aprile la data di fine di questa season ci sono delle cose interessanti degli aggiornamenti nei file di gioco che posticiperebbero la season addirittura al 15 maggio staremo a vedere ma la domandina ve la devo fare perché ci tengo tantissimo ai vostri commenti proprio qua sotto ed è davvero semplice semplice ma secondo te qual è il tuo posto migliore per atterrare la location preferita quella dove ti trovi a tuo agio io le ho visitate le ho visitate tutte 2000 3000 4000 volte a me piace tanto l'andare al pantano ci sta fai le due tre kill classiche sei full shield ti apri i forzieri a me pantano tanta roba dimmi qual è il tuo preferito qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e mando alle ciance andiamo subito a vedere il post che tutti credo abbiate visto pubblicato direttamente da deadpool sulla sua pagina ufficiale di twitter dice tradotto in italiano a partire da domani oggi in poche parole io comincerò a fare casino nel mio nuovo party ci sarà tanta musica ci saranno i tacos e ci sarà tanto deadpool ovviamente sotto c'è proprio la fotografia dello yacht che è stato prepotentemente sequestrato al miascolo perché se non sbaglio c'è proprio un miascolo adesso nello yacht e deadpool ci andrà a fare la sua base segreta vi avevo già fatto vedere degli spezzoni dove appunto all'interno troveremo un sacco di richiami a deadpool la sua postazioni da streaming i quadri il bar dei tacos e ovviamente arrivano questo pomeriggio anche le sfide della settimana di deadpool la numero 7 la più importante perché ci regaleranno proprio la skin del nostro supereroe più strappalato chiamiamola un po come volete è molto semplice dobbiamo semplicemente fare la coppia di sfide che ci chiede di trovare le doppie pistole di deadpool vi ricordo che deadpool sarà a quanto sembra il boss mitico dello yacht quindi quando andremo lì sembrerebbe che dovremo affrontarlo per poter recuperare la sua arma speciale che sono appunto le doppie pistole e devono fare veramente brutto ci chiede appunto la sfida di trovarle e vi faccio già un anticipo dovrete andare dalla lobby nella sezione a sinistra degli agenti nella sezione di miascolo e in basso a destra come vedete ci sarà la pistola in evidenza prendetela e farete la prima parte della sfida la seconda se non ricordo male chiedeva di travestirsi comunque non preoccupatevi vi caricherò oggi il video di come risolvere entrambe le sfide che comunque sono sempre molto molto semplici sappiamo anche una cosa interessante non è questa l'ultima settimana delle sfide di deadpool ma ce ne sarà un'altra settimana prossima ragazzi avremo delle nuove sfide che ci chiedono semplicemente di trovare il pool float adesso io penso sia un gonfiabile da piscina qualcosa di strano e di ballare allo yacht party una volta che avremo completato anche queste due sfide davvero semplicissime otterremo la variante di deadpool senza maschera che devo dire ragazzi tanta roba mi piace poi a me piacciono proprio le skin che richiamano un pochettino la realtà ovviamente mi piacciono tantissime quelle che richiamano mi viene in mente batman batman è tanta tanta roba marshmallow ninja tutte quelle skin un pochettino particolari e deadpool non è ovviamente da meno quindi un sacco di roba super interessante arrivano i regali e grazie a epigames dobbiamo dirglielo per farci queste questi regali bellissimi in un videogioco gratuito ve lo ricordo sempre ma andiamo avanti e parliamo di roba che ci sta un pochettino più appassionando ovvero sia la storyline ragazzi ci sono delle cose incredibili spero che siate arrivate fino qua a vedere il video perché guardate partiamo da qua nei file di gioco è stato trovato uno spezzone video smanacciando tra le varie le varie parti degli agenti che farebbe vedere la stanza segreta di cui vi parlavo anche nel video di ieri perché c'è una stanza segreta perché dovrebbe essere la stanza che utilizzerà mida barra anche gli altri agenti per difendersi dal possibile attacco dell'arma del doomsday quindi del giorno del giudizio vi prego andate a vedere il video di ieri se non sapete di cosa sto parlando perché è un casino rispiegarvelo tutto dall'inizio voglio farvi vedere un attimo uno spezzone video come al solito perché è molto molto interessante guardate un po' se si va dentro i file di gioco si nota proprio che c'è una specie di filmato tutto strano quindi ovviamente non è questo il filmato definitivo con dei colori a sinistra si vedono delle cose ma quello che ci interessa a noi rimane tra qualche secondo a destra dove si nota appunto eccolo qua ragazzi questo che a prima vista può sembrare una parte del pozzo in realtà dovrebbe contenere appunto la stanza segreta ieri ve l'avevo già fatta vedere in una variante più colorata ma sfocata purtroppo non abbiamo ancora delle immagini perfette ma staremo a vedere quando arriverà e a che cosa servirà speriamo ovviamente non serva però dovrebbe essere tutto associato anche con quei cinque oggetti strani intorno all'agenzia ma guardate qua porca di quella porca di quella porca voi dite minghia xyuder mi stai facendo vedere degli elmetti dorati prima vi faccio vedere uno spezzone video una cutscene quindi una scena tagliata di midas guardate ragazzi guardate che meraviglia si apre la porta si vede midas che ha in mano guardatelo un elmo avete già capito che è l'elmo del cavaliere nero potrebbe essere già nella sua stanza segreta e guardate adesso lui tocca l'elmo perché lo vuole trasformare ovviamente in oro ma quando la la telecamera cambia porca la porca la porca ragazzi ci sono degli elmi elmi dietro incredibili ovviamente ci ha un po spiazzato questa cosa perché dici porca miseria infatti leggiamo da questo post che dice abbiamo l'elmo del beast mode il rhino se non ricordo male l'abbiamo chiamato noi abbiamo il burger abbiamo l'elmo dell'8 ball della palla 8 abbiamo links abbiamo l'astro assassino abbiamo l'asso alpino abbiamo haimi il cavaliere nero e perché mida ha raccolto questi elmi vuoi vedere che boh io non so cosa dirvi ci potranno essere magari delle varianti d'oro anche delle skin vecchie oppure semplicemente midas dovremmo liberare noi delle skin vecchie non lo so ragazzi perché ci stiamo ovviamente scervellando per cercare di capire anche noi quello che può succedere e anche noi dico anche io insomma ragazzi se a voi viene qualche idea sono ben accetti tutti i vostri commenti qua sotto io vi ringrazio tantissimo per avere guardato il video news di fortnite anche di oggi e vi ricordo che mi trovate adesso in live su twitch ciao 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 Grazie a tutti.